Non stare parcheggiate ai lati della vita, nella Santa Messa per il passaggio della croce della GMG il Papa parla ai giovani di grandi sogni che rendono liberi. La vita la si possiede solo donandola, ha esortato Francesco. La lavanderia San Giorgio di San Colombano-Certiennoli non lavora a causa dell'emergenza sanitaria ma non può ricevere i ristori del governo. 40 dipendenti sono in cassa integrazione da marzo. I piatti scistici a rischio chiusura si apre un nuovo fronte tra il governo e regioni. Santo Stefano Daveto teme per l'economia legata al turismo invernale. Ancora ai boxe il cannone sparaneve. Sostieni il tuo negozio di vicinato che illumina la città. I commercianti di Lavagna lanciano una campagna di aiuto o promozione per gli acquisti natalizi. Il convento dei frati Capucini a Monterosso riapre virtualmente al pubblico. Ogni mattina la recita delle lodi dalla terrazza sul mare e incontri online con gli amici della fraternità. Sta avendo un buon riscontro. Io leggo perché iniziativa per sostenere le biblioteche scolastiche. Fino al 29 novembre è possibile acquistare un libro e donarlo in una delle librerie che hanno aderito. La Virtus Entella ha esonerato l'allenatore Bruno Tedino. Serviva una scossa per invertire il pericoloso trend negativo. Ha spiegato il presidente Gozzi. Ieri bianco celesti fermati ad Ascoli 1-1. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Non stare parcheggiati ai lati della vita. Nella Santa Messa per il passaggio della croce della GMG, il Papa ha parlato ai giovani di grandi sogni che rendono liberi da cercare oltre il pensiero dominante che riduce la felicità al divertimento, l'esistenza a una febbre di consumi, l'amore ad emozioni. Non vivacchiate, scegliete Dio perché rende felici, così ha detto Francesco ai giovani. Sentiamo le sue parole nel primo servizio della telegiornale. Cari giovani, non rinunciamo ai grandi sogni. Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti. Non ci vuole i parcheggiati ai lati della vita. Nella Messa per il passaggio della croce della GMG, il Papa Francesco si rivolge proprio ai giovani e gli esorta a fare quei grandi sogni che rendono liberi. Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ha spiegato Francesco, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo, le opere di misericordia. Ma da dove si parte per realizzare grandi sogni, si è chiesto il Papa e il Vangelo a darci la risposta. Scelte banali portano una vita banale. Scelte grandi rendono grande la vita. Noi infatti diventiamo quello che scegliamo, nel bene e nel male. Se scegliamo di rubare diventiamo ladri. Se scegliamo di pensare noi stessi diventiamo egoisti. Se scegliamo di odiare diventiamo arrabbiati. Se scegliamo di passare ore davanti al cellulare diventiamo dependenti. Ma se scegliamo Dio diventiamo ogni giorno più amati e se scegliamo di amare diventiamo felici. La bellezza delle scelte dipende dall'amore, non dimenticare questo. Il signore della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della vita. La si possiede solo donandola. Ha proseguito Francesco che ha messo in guardia contro le difficoltà e gli ostacoli come il timore, la febbre dei consumi che impediscono le scelte. Poi due inviti a ribaltare la mentalità che vorrebbe imporsi. Scegliere, ha detto il Papa, soprattutto oggi è non farsi addomesticare dall'omologazione e saper rinunciare alle apparenze e all'apparire. Il secondo consiglio è guardarsi dentro e rispondere con sincerità alla domanda che cosa mi fa bene. Da questa ricerca interiore possono nascere scelte banali o scelte di vita. Depende da noi. Guardiamo a Gesù, chiediamo il coraggio di scegliere quello che ci fa bene per camminare dietro a Lui nella vita dell'amore e trovare la gioia per vivere e non vivacchiare. Sono 285 nuovi positivi in Liguria su 2831 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Buone anche le notizie sul fronte ospedaliero. 5 ricoverati in meno nelle strutture regionali dove le terapie intensive sono 122. In Asle 4 Chiavarese sono 40 nuovi casi riscontrati, uno ospedalizzato in meno a Sessi Levante dove permangono 116 pazienti e 8 in terapia intensiva. A Lavagna sono ricoverati 7 pazienti di cui 2 in terapia intensiva. Complessivamente il numero dei guariti è stato 826. Un'azienda in crisi a causa del coronavirus ma esclusa dai sostegni economici del governo. Si tratta della lavanderia industriale San Giorgio che si trova in località Scaruglio a San Colombano-Certennoli dove da lavoro ha oltre 40 dipendenti. Vediamo il perché nel servizio che segue. I problemi per la lavanderia San Giorgio non sono iniziati con il coronavirus ma la serrata quasi totale di alberghi e ristoranti ha tagliato le gambe ad un'azienda che lavora con il lavaggio e il noleggio biancheria delle strutture ricettive. Al momento i 40 dipendenti dell'azienda sono in cassa integrazione e lavorano uno o al massimo due giorni alla settimana. Come se non bastasse la lavanderia non può ricevere i contributi per le imprese danneggiate dal covid e erogati dal governo poiché rientra nella categoria di quelle che si trovavano già in crisi prima dell'emergenza sanitaria. La società aveva infatti fatto partire un concordato preventivo nell'estate 2019 che si sarebbe dovuto chiudere a luglio salvo pandemie. Quindi noi questo contributo che inizialmente c'è stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate abbiamo dovuto restituirlo. Il contributo non è un importo sostanziale che possa cambiare la situazione dell'azienda ma doveva essere destinato all'integrazione degli stipendi del personale. Nessun dipendente dall'inizio del concordato nel 2019 è stato licenziato anche perché la volontà dell'azienda è quella di andare avanti. I 40 lavoratori, per la maggior parte donne, si trovano in cassa integrazione da marzo con una breve sosta ad agosto. C'è un'azienda che purtroppo non è neanche in grado di anticipare la cassa integrazione, quindi abbiamo i lavoratori che aspettano il pagamento diretto dall'Inps. Che significa, diciamo, entrare nel tempo? Dipende, la prima cassa è stata pagata due o tre mesi dopo, quindi abbiamo dei lavoratori che oltre ad andare avanti con 700 euro al mese non sono mensili, ma quando arrivano arrivano. La prima speranza è quella di una riapertura delle strutture ricettive che permetta di tornare a lavorare a pieno regime. La situazione della lavanderia è stata posta all'attenzione del Consiglio Comunale di San Colombano, dal gruppo di minoranza Territorio di Sviluppo, che ne ha chiesto una convocazione straordinaria. Noi speriamo di sensibilizzare la classe politica su un problema di un'azienda che pur essendo in crisi ha le prospettive per riprendere e continuare a dare lavoro al personale come abbiamo sempre fatto in questi anni di attività. In merito alla situazione della lavanderia San Giorgio esprime preoccupazione la CGL di Genova e del Tiguglio. A fronte della volontà dei titolari di mantenere l'attività in vita, i rappresentanti dei lavoratori hanno avviato un percorso di sensibilizzazione che coinvolga le istituzioni locali e regionali, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa. In particolare l'obiettivo è quello di salvaguardare i redditi dei 60 lavoratori coinvolti in un territorio come quello della Fontana Buona, dove diverse attività negli ultimi anni purtroppo hanno chiuso. Tra governo e regioni si apre un nuovo fronte, quello relativo alla possibile chiusura delle stazioni sciistiche. Le comunità alpine chiedono di non chiudere gli impianti, a rischio ai lavoratori e anche indotto. A Santo Stefano Davito, a causa di questa situazione di incertezza, non è stato ancora messo in funzione il cannone per l'innevamento artificiale. Vediamo. Un eventuale stop alla stagione bianca metterebbe in crisi un settore, ma anche l'economia di un territorio. A Santo Stefano Davito, per esempio, si guarda con timore al prossimo DPCM che potrebbe colpire non solo gli impianti di risalita, ma l'intero indotto, rifugi, scuole di sci, noleggi, hotel e tutta l'ospitalità in generale. Sì, è un grosso problema, però poi per non parlare di tutti quelli che sono gli stagionali, a partire dagli operatori degli impianti a fune, poi si arrivano anche gli stagionali dei ristoranti e degli albergatori. Levare il periodo di Natale significa tagliare al 50% una stagione, questo però bisognerà rendersene conto e bisogna soprattutto che chi è sopra di noi riesca ad adottare degli strumenti congrui alle perdite che ci sono state. Anche la schiarea di Santo Stefano nel suo piccolo sostiene spese importanti, dalla manutenzione di impianti e mezzi, come il Gatto delle Nevi, alla preparazione delle piste, che rischiano di non venire coperte dagli introiti del periodo natalizio. Anche il cannone per l'innevamento artificiale, atteso da tempo e finalmente acquistato, ora è fermo ai box. È una bella decisione se accenderlo o no, nel senso che il lavoro ormai è stato svolto, eravamo pronti per vedere un po' i risultati di quello che sono stati, comunque anche le settimane di lavoro intenso. Vogliamo crederci, come ci abbiamo sempre creduto anche in questi anni dove non nevicava, noi siamo qua sui monti e questo è comunque anche un altro fatto che devono considerare poi nel bilancio complessivo delle stagioni, anche crederci sempre, anche nelle stagioni che non va mai. Noi non abbiamo mai mancato di crederci, non è di sicuro questo l'anno una crisi economica che ci vedrà mancanti su qualcosa sulla quale abbiamo investito e sulla quale crediamo. Squeri sostiene poi, come molti dei suoi colleghi a livello nazionale ed internazionale, che lo sci è uno sport sicuro, è individuale, ben coperto, anche il volto e con le giuste distanze. Magari in quel momento di criticità possono essere i rifugio o quant'altro, ma si possono attivare servizi come è stato fatto anche in altre nazioni, di pranzo al sacco, altri servizi che possono garantire comunque alle persone di avere la possibilità di mangiarsi un panino caldo, al di fuori degli spazi comunque comuni dove si potrebbero essere tutti raggruppati. Con l'accensione delle luminarie natalizie, i negozianti di Lavagna hanno lanciato un'importante iniziativa di sostegno alle attività commerciali cittadine. Lo slogan è sostieni il tuo negozio di fiducia che illumina la tua città. L'auspicio è che per gli acquisti la clientela preferisca il negozio di vicinato al commercio online. Vediamo. In tutti i paesi del mondo sale questa voce di non comprare online, ma di andare dai negozi di vicinato, ancora recentemente abbiamo letto in Francia, un appello che arriva anche da Lavagna. È un appello accorato, che arriva da tutte le attività commerciali, perché le nostre piccole attività ci sono, ci sono tutti i giorni, siamo presenti. Però sembra che nelle persone ci sia un po' a volte il desiderio di difendere anche il piccolo commerciante, allora mai come quest'anno occorrerebbe farlo, insomma. Beh, questo è l'augurio che ci facciamo e che facciamo a tutti e a tutte le cittadine che vivono del commercio. Lavagna ha un ricco centro commerciale dove sono presenti tantissime anche piccole attività che danno colore e anche bellezza alla nostra cittadina. E vanno custodite queste attività, vanno, come dire, curate e viviamo proprio grazie al sostegno di tutta la clientela. Noi abbiamo molto apprezzamento anche dalle persone che arrivano per le vacanze da fuori, perché in realtà piccole dove c'è ancora il commerciante che ti dà il consiglio, ti suggerisce che cosa è meglio, che cosa puoi acquistare, eccetera, lo gradiscono molto. Perché nelle grandi città non esiste più, diciamo, ormai ci sono spazi molto più grandi dove chiaramente le realtà di commercio, di grandi linee, di grandi è molto più diffuso che da noi per gli spazi che hanno. Però vediamo che da queste persone veramente è molto gradita invece il rapporto interpersonale che si va a creare tra il commerciante e il cliente. Mai come quest'anno ci avete messo la faccia, la passione, tutti i rischi connessi alla vostra attività, è vero? Ebbè, come sempre. Il commerciante penso che la nostra vita la dedichiamo, ma come tante altre attività, comunque la dedichiamo al nostro lavoro con tanta passione, con tanta voglia di fare e soprattutto con la voglia che il cliente esca sempre molto soddisfatto dalle nostre attività. Oggi l'ente regionale ha indicato agli ospedali dove potrà essere erogato il vaccino anti-Covid. Nel frattempo è stata annunciata la via in Asle 4 del progetto che prevede l'esecuzione dei tamponi rapidi da parte di alcuni medici di famiglia. Il servizio potrà essere prenotato o dal proprio medico o dal Dipartimento di Provenzione dell'Asle 4 Chiavarese. Sentiamo. Regione Liguria ha individuato 23 ospedali per l'erogazione del vaccino anti-Covid. La ricognizione è stata fatta dopo la nota della Presidenza del Consiglio e la richiesta del Commissario Alcuri. Per l'Asle 4 le vaccinazioni si terranno negli ospedali di Rapallo, Lavagna, Sestri Levante e all'Inclas di Rapallo. Il fabbisogno individuato e trasmesso al Governo riguarda 27.516 unità di personale ospedaliero e territoriale, di cui 23.317 di personale sanitario e socio-sanitario. A questi si aggiungono 12.780 ospiti e 9.114 lavoratori delle RSA. Il totale del personale operante nei presidi ospedalieri sul territorio dell'Asle 4 è di 2.481 unità. Intanto da mercoledì prenderà avvio il progetto per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che hanno aderito all'iniziativa. Nel nostro territorio il numero dei medici si avvicina al 50% del totale. I tamponi antigenici rapidi saranno prenotabili dal proprio medico di famiglia e saranno eseguibili in diverse sedi individuati sul territorio, ciascuno per il proprio distretto. A Rapallo, nel punto di primo intervento dell'ospedale Nossa Signora di Montallegro. A Chiavari, nella palazzina degli ambulatori di Via Ghio al piano terra. A Sestri Levante, al primo piano dell'ospedale in Via Terzi. A Cicagna, nel polo sanitario di Corso Marconi. A Borzonasca, nel polo sanitario di Via Roma. A Rezzoglio, nel polo sanitario di Corso Marconi. A Cogorno, nella sede della Croce Rossa in Via Croce Rossa. A Casarza Ligure, nella sede della Croce Verde in Via Annuti. A Moneglia, nella sede della Croce Azzurra in Via Botto. Lavori in corso sul lungomare di Rapallo, che causeranno l'interruzione temporanea al traffico in direzione ponente nelle giornate di martedì, solo saltuariamente nei periodi in cui sono eseguite le operazioni. E poi venerdì, invece, con orario dalle 6 alle 20. Lo stop alla circolazione è necessario per permettere le operazioni di scarico delle componenti della gru da installare nel cantiere per la ricostruzione dell'immobile e la ristrutturazione dell'ex albergo Savoia. A Chiavari sono partite le operazioni di rinforzo delle difese a mare del litorale. Si tratta dell'intervento più importante di protezione della costa chiavarese degli ultimi decenni. Dichiara così il sindaco Marco Di Capua. Il comune ha ottenuto a fondo perso dalla ragione 770 mila euro per il 2020 e 150 mila per il 2021, destinate al ripristino e al rinforzo delle dighe frangiflutti poste a difesa della passeggiata e delle spiagge. Il pontone ha iniziato i lavori nella parte più apponente all'altezza della colonia Piaggio, costruendo praticamente ex novo la barriera ormai sommersa. La messa in sicurezza proseguirà nei prossimi giorni in direzione a Levante, conclude Di Capua, interessando i punti più critici individuati dalla campagna di rilievi e di indagini effettuata dagli uffici comunali dopo la mareggiata del 2018. E a Chiaveri sono iniziati i lavori per il nuovo parco giochi nei pressi del convento dei frati Capucini di Viale Tappani. Concluso l'intervento, l'area tornerà a essere a disposizione dell'attività dei bambini dopo un periodo in cui era rimasta in disuso. La ristrutturazione è stata resa possibile grazie a una donazione di Vittorio Chiesa. Don Cristiano Princiotta Cariddi è stato nominata dal vescovo amministratore parrocchiale della comunità di Santa Maria Maddalena di Lumarzo, Santo Stefano di Pannesi e del santuario di N.S. del Bosco, sempre a Pannesi. Il sacerdote manterrà l'incarico di aiuto pastorale al santuario di Montallegro. Don Cristiano ha 45 anni, è originario di Novara, ma da alcuni anni ormai collabora con la diocesi di Chiaveri. Prenderà servizio in Fontana Buona domenica prossima, che è la prima domenica di avvento. Al convento di Monterosso, alle 5 terre, i francescani organizzano due nuovi appuntamenti online per essere presenti in questo momento di incertezza e di sofferenza. Inconti per raccontarsi e ogni giorno la preghiera mattutina delle lodi dalla terrazza sul mare della riviera Ligure di Levante. Padre Renato Brenz, Verca, ha raccontato a Vatican News come è nata questa nuova esperienza. Lo ascoltiamo. Si tratta di una possibilità, secondo me, molto bella, piena di bellezza, di speranza, ma di una vicinanza. Quest'iniziativa, infatti, si chiama Mai stati così vicini, perché il convento ha molti amici. Da qui è partita un po' l'idea di dare delle immagini, di spezzoni di bellezza di questo luogo, ma attraverso un respiro ricreativo, che vuole passare attraverso questi amici, i quali ci introdurranno attraverso la loro professione, i loro racconti, e faranno un po' da legame. Quindi se durante la prima esperienza, la prima proposta era lei, Padre Renato, a aprire le porte del convento attraverso le piattaforme digitali, attraverso il web, adesso sono le persone, i visitatori, gli amici del convento, che racconteranno la loro esperienza del convento? Esattamente. Il loro legame al convento, ma per esempio anche la loro professione, proprio per sentirci tutti insieme. E il virtuale diventa anche una potenzialità, se vogliamo un'occasione, proprio per sentirci tutti vicini, come persone che in realtà non avrei mai incontrato. Ed è suggestiva l'immagine della terrazza del convento, che è sulla vostra, sulla Lucandina, che di fatto promuove questa particolare iniziativa. Come ritrovarsi su questa terrazza, tra amici a parlare e a raccontarsi e ciò che si vive in questi mesi difficili e ciò che è la propria esperienza di vita. Esattamente. Infatti ho voluto mettere in maniera significativa queste sedie vuote, perché voglio che tutti vengano a sedersi su queste sedie in un posto molto bello. Campanari Liguri per la sua saggezza, la sua bontà, la sua pacatezza, la sua generosità, per l'amore e l'impegno con cui ha fatto parte di questo gruppo. Antonioli era un vicebrigadier dei Carabinieri in congedo, aveva iniziato sul servizio di Campanaro nel 1945 a Groppo di Sesta Godano. Gli amici dell'Associazione Campanare Liguri, tutti i campanari dell'Associazione d'Italia e la Federazione Nazionale Suonatore di Campane si stringono intorno alla moglie Angela e figli Paolo, Fabio e alle loro famiglie. L'edizione 2020 di Io Leggo Perché sta avendo un buon successo nonostante la pandemia. Si può contribuire alla raccolta di libri per le scuole del territorio acquistando un volume in una delle librerie che hanno aderito che sul territorio del Tiguglio sono una dozzina. Vediamo quali nel servizio che segue. Più di 2 milioni e mezzo di bambini e ragazzi coinvolti a livello nazionale, oltre 13.000 scuole, più di 2.500 librerie mobilitate e aperte su tutto il territorio nazionale. Sono questi i numeri dell'edizione 2020 di Io Leggo Perché, il progetto promosso e coordinato dall'Associazione Italiana Editori, sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e l'Associazione Italiana Biblioteche e le associazioni che rappresentano i librai. Fino al 29 novembre è possibile acquistare uno o più libri in una delle librerie che hanno aderito e donarlo ad una delle scuole gemellate sul territorio. Cinque le librerie che hanno aderito a Chiavari, due a Rapallo, una rispettivamente a Lavagna e a Sestri Levante e una a Santa Margherita Ligure. Quest'anno la libreria di Santa ci mette la faccia e il cappello. Di cosa sto parlando? di Io Leggo Perché, un'iniziativa per la promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e del Centro per il libro e la lettura. In cosa consiste? Da sabato 21 a domenica 29 novembre potete passare in libreria e scegliere uno o più libri da donare alle scuole con cui la libreria di Santa è gemellata. Per quest'anno si tratta delle primarie Attilio Regolo Scarsella e Nozzargo Basso. Per questo vi aspettiamo in libreria perché mai come in questo periodo un libro unisce. Le librerie sono gemellate con le scuole del territorio che in alcuni casi hanno fornito indicazioni utili a chi vuole contribuire alla raccolta. Buona l'adesione nei primi due giorni dell'iniziativa anche grazie al fatto che molti insegnanti hanno coinvolto i ragazzi in prima persona. Passiamo allo sport. La Virtus Antella Chiavari ha sollevato dall'incarico l'onatore della prima squadra Bruno Tedino. Tedino, si legge nel comunicato del presidente Gozzi, ha dimostrato di essere una persona dagli elevati valori morali come raramente mi è capitato di incontrare nel mondo del calcio e di avere doti professionali di grande spessore. Prosegue il presidente Gozzi. Purtroppo non sono arrivati i risultati anche per i numerosi infortuni che non ci hanno dato tregua. È stata una decisione molto sofferta ma in questo momento si arriva una scossa per invertire il pericoloso trend negativo. La notizia è arrivata l'indomani del pareggio in esterna ad Ascoli per 1-1. La cronaca del partito nel servizio che segue. Se si dovesse cercare un esempio di quello che qualche anno fa la Jalapas Band avrebbe chiamato un gollonzo quello andato in scena all'84esimo della partita Ascoli-Virtus-Entella rispetterebbe con buona probabilità tutti i canoni estetici. Una punizione calciata senza troppa convinzione e pretese il pallone che sguscia tra le braccia di Borra e il terreno e si deposita lentamente in fondo alla rete tra l'incredulità dei giocatori delle due squadre in campo quelli dell'Ascoli ad esultare quelli della Virtus-Entella a disperarsi e ha ragione perché fino a quel punto i primi tre punti della stagione erano davvero ad un passo. I biancocelesti tornano a casa con un punto e una classifica che dopo otto gare ne conta appena cinque e dire che le cose non si erano messe affatto male la Virtus-Entella comincia bene al tredicesimo e mazzocco ad avere la prima palla gol ma calcia alto su suggerimento di Cardoselli. Tre minuti dopo De Luca inspira e trova mazzocco al limite dell'area ma il centrocampista non aggancia per pochissimo. L'Ascoli prova a ripartire ma la difesa biancoceleste è sempre attenta nel finale di tempo Petrovic prova ad approfittare di un'incomprensione della difesa marchigiana ma è ancora Sara a intervenire prontamente. L'unico brivido per l'Entella arriva quasi a tempo scaduto Sabiri calcia una pulizione insidiosa Borra respinge con incertezza e Speldofer calcia a porta vuota ma è tutto fermo per una carica di brosco sul portiere chiavarese. Nella ripresa i biancocelesti ripartono e macinano gioco. Al 55esimo la svolta Buckel viene espulso per doppia munizione e l'Ascoli si trova in inferiorità numerica. Tedino toglie Petrovic e Cardoselli e inserisce Mancosu e Morosini. Proprio al numero 20 si incunea in aria appena 5 minuti dopo il suo ingresso e si guadagna il calcio di rigore. Rosso per Corbo per fallo da ultimo uomo e biancocelesti in doppia superiorità numerica. come sempre implacabile viene realizzato il rigore e il vantaggio. I giochi sembrano fatti Tedino ricorre alle sostituzioni ma all'84esimo la doccia fredda fallo di Morosini Sabiri si incarica della punizione ne esce fuori una traiettoria beffarda che Borra valuta male e non riesce a trattenere il pallone. Pareggio. Inutili i tentativi di biancocelesti di riportarsi in vantaggio negli ultimi minuti l'Ascoli si chiude in difesa e il portiere sventa gli ultimi assalti. La Virtus Entella torna a casa con un punticino e un pareggio dal retrogusto di Beffa la classifica parla chiaro occhi puntati lunedì prossimo alla gara contro la SPAL ma intanto giovedì in Coppa Italia trasferta in Piemonte contro il Torino. Disagi in vista per il trasporto pubblico nella giornata di mercoledì 25 novembre l'organizzazione sindacale USB ha comunicato la propria adesione allo sciopero nazionale di 4 ore del settore il personale viaggiante aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30 mentre il personale delle biglietterie dalle 10.30 alle 14.00 Disagi al traffico tra Sesti Levante e Moneglia da lunedì 23 novembre a venerdì 18 dicembre le gallerie saranno chiuse nella fascia orarie 9.17 e 21.20 5.20 per consentire il intervento di sostituzione all'impianto di illuminazione per tante in quegli orari non saranno percorribili in nessuna direzione le chiusure proseguiranno tra l'altro anche nel fine settimana nel periodo di chiusura delle gallerie di Moneglia l'Asel 4 fornirà un presidio infermieristico straordinario con orario 9.17 nella fascia oraria notturna l'Asel renderà disponibile questo servizio di guardia medica distaccato nella sede della Croce azzurra Monegliese ancora lavori in A12 ancora chiusure notturne sulla tratta autostradare traffico interdetto tra Genova Nervi e Recco in direzione di La Spezia dalle 22 alle 6 di martedì 24 novembre nello stesso orario è chiuso il casello di Genova Nervi in entrata verso Genova nello spazio di approfondimento direttamente su questa sera parleremo dell'enciclica Fratelli Tutti del Pontefice in particolare tratteremo l'incontro che si è svolto a Roma in occasione della giornata mondiale dei poveri con i cardinali Angelo De Donatis e Gianfranco Ravasi padre Fabio Baggio e la giornalista Stefania Falasca inizio alle 21 e 10 telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando il Vangelo di Marco in dialogo con l'oggi sarà questo il tema della riflessione del momento di preghiera in programma questa sera a partire dalle 20 e 45 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Casarza Ligure uno spazio di meditazione curato dal paraco Don Stefano Traini per accompagnare il cammino di fede rileggere e abitare con speranza questo tempo faticoso nella storia un'iniziativa inserita nel cammino di comunità dell'ambito della Val Petronio Moneglia per fare in modo che tutti possano partecipare a questo momento anche da casa la preghiera sarà trasmessa in diretta su Telepace al canale 218 di Telepace 4 a questo seguirà un secondo appuntamento lunedì 14 dicembre sempre in diretta si svolgerà questo nella chiesa di Santa Croce in Moneglia ripeto lunedì 14 dicembre questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento con l'informazione rinnovato domani alle ore 12 e 45 con Tiguglio oggi vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente vi auguro una buona serata arrivederci